Il CLPT, il coordinamento dei portuali che ha dato il via alle proteste al varco del porto lo scorso 15 ottobre, non è più un sindacato riconosciuto dall'autorità di sistema portuale. Capitanata da Stefano Puzzer, che poi ha lasciato la carica di portavoce vicepresidente, la sigla sindacale paga le proteste davanti al porto. Come anticipato, secondo indiscrezioni al telegiornale di Telequattro di ieri sera, oggi è scattata la lettera a firma del presidente del porto, Zeno D'Agostino, in cui viene comunicata la decisione di non riconoscere più il coordinamento dei lavoratori portuali. Ciò in conseguenza della proclamazione di astensione dal lavoro da parte del coordinamento lo scorso 15 ottobre. Secondo la missiva inoltrata alla sigla sindacale, il CLPT ha violato l'articolo 49 del contratto nazionale dei porti e il protocollo d'intesa firmato il 27 luglio 2020 tra Zeno D'Agostino e il coordinamento stesso. L'oggetto della contestazione sono le modalità di comunicazione dello sciopero e il suo svolgimento. Secondo l'autorità portuale, il CLPT ha tenuto un atteggiamento gravemente lesivo dell'articolo 49 del contratto nazionale dei porti, che prevede tre obblighi fondamentali. A. Comunicare alle imprese portuali l'intenzione di dichiarare sciopero con almeno 10 giorni di previso e l'indicazione di motivazione, data, durata e orario di astensione dal lavoro. B. Avere riguardo durante lo sciopero della integrità e sicurezza dei lavoratori, dell'utenza e degli impianti e mezzi. E. C. Assicurare tramite accordi tra autorità portuale ed RSA la presenza del personale necessario a garantire la sicurezza degli impianti. Un messaggio chiaro di Zeno D'Agostino anche a monito di chi volesse emulare il CLPT. Dall'altra parte il coordinamento dei lavoratori portuali ha preso visione della lettera, ma attende anche un confronto vis-à-vis con l'autorità di sistema. In serata il direttivo del CLPT si incontra per fare il punto della situazione e rispondere ufficialmente alla lettera di D'Agostino. Il comunicato è atteso per le prossime ore, ma non è escluso che la risposta arrivi tra domenica e lunedì. Intanto il sindacato continua a lavorare come sempre, fa sapere il presidente del CLPT Sebastiano Grison, raggiunto telefonicamente. «Nessuno ci ha esautorato dal nostro ruolo, continuiamo a esistere, sono i lavoratori il nostro riferimento». Intanto però, dopo la formale rottura tra CLPT e autorità portuale, il sindacato non verrà più invitato ai tavoli di contrattazione. Resta il fatto che il CLPT rimane punto di riferimento di una gran moltitudine di lavoratori portuali.